Salve, buongiorno, eccoci ancora qua con un video un po' diverso dagli altri che erano tecnici, questo è più un redazionale come si direbbe su una rivista. Alla luce della conferenza stampa del presidente Conte, quindi del DPCM del 26 aprile, logico che le aspettative del mondo delle palestre del fitness fosse più alto e stando a quanto è scritto, a parte una liberatoria sulle attività all'aperto, dal 4 maggio è scritto che le palestre, centri sportivi non riapriranno. Sono prevenute quindi tantissime domande ma quando riapriremo alla data attuale non ci sono un momento certo, è tutto al vaglio della famosa commissione tecnica che sta agendo per codici a teco, codici a teco che riferito alle attività normalmente svolte a livello di palestre, centri sportivi, personal trainer, stiamo parlando o di un R93 che sono attività sportive o di intrattenimento, un S96 che sono altre attività di servizio alla persona. Sicuramente non rientrano nella Q86 invece che sono attività sanitarie che invece probabilmente da questa settimana anche quelle non strettamente legate al covid possono riprendere. Quindi vuol dire che i codici a teco che abbiamo detto sopra sono codici con un altro indice di contatto con le persone, cosa che potete vedere anche dal documento INAIL che è sulla pagina Facebook della FIF e quindi questo altro codice fa in modo che questo altro indice, fa in modo che queste attività vengono derogate fine maggio, primi giugno, non è chiaro. Che cosa ha fatto, cosa farà FIFASI? Chi ci ha seguito ha visto che abbiamo scritto lettere al Ministro Conte, a Spadafora, a Speranza e a Di Maio, questo è stato cercando di farli concentrare sul fatto che non è solo un ambiente che produce una grossa fetta del PIL, ma è un ambiente che lavora nel benessere e nella salute, quindi dei presidi che sono molto importanti di questo tempo. Sottolineando i numeri che sono legati, che avrebbe bisogno di tutta una serie di assistenze, ma questo è un discorso in più. Il Ministro Speranza ci ha risposto in modo cortese, che verranno valutate tutta una serie di situazioni. Che cosa faremo? Quello che faremo adesso è cominciare a scrivere ai presidenti delle regioni, perché si sta vedendo come esista un'autonomia delle singole regioni di fare delle deroghe e a nostro avviso vorremmo agire in questo senso, quindi scrivere ai presidenti di regioni focalizzando la necessità che questo settore riparta e che si rincominci a vivere in modo differente. Quindi continueremo a fare sentire la vostra voce, continueremo a tenervi informati e le cose da fare intanto sono tante. Sono in contatto con diversi personal trainer che mi dicono che sono consapevole che dal 4 maggio non potranno riaprire i loro studi e si stanno organizzando in un modo abbastanza semplice. Daranno appuntamento ai loro clienti all'aperto e quindi faranno, rispettando tutti i criteri di distanza, criteri che vengono detti, faranno lezione all'aperto. Non è la stessa cosa, ne sono consapevole, però l'idea mi piace. L'idea mi piace perché è un modo per fare una resilienza a questa situazione con una visione positiva, mettendo in gioco la propria professionalità, perché comunque le persone devono capire che poter disporre di un personal fa la differenza in qualsiasi contesto, sia all'interno di uno studio che all'aperto. È un'idea. Comunque FIFASI continuerà a lavorare per voi. Buona giornata, tenete duro.